Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Gioele Puzzo, un bambino di soli 9 anni che avrebbe compiuto 10 a dicembre, ha perso tragicamente la vita venerdì 14 settembre mentre giocava a calcio presso l'impianto sportivo Meledina di Ozzieri, in provincia di Sassari. Durante una partita, Gioele avrebbe urtato una porta mobile, che gli è crollata addosso, causando un incidente fatale. Nonostante la tragedia, la 131esima festa della Beata Vergine del Rimedio, una delle celebrazioni più sentite del paese, è proseguita, suscitando indignazione tra i cittadini. È una vergogna, è morto un bambino e qui si festeggia, è stato uno dei tanti commenti apparsi sui social. La decisione di continuare la festa non è stata accolta favorevolmente da molti, e sui social si sono moltiplicate le critiche. La presenza di Fedez, che si è esibito come previsto, è stata uno degli eventi che ha inasprito ulteriormente la polemica. L'Associazione Beata Vergine del Rimedio di Ozzieri ha manifestato vicinanza alla famiglia in lutto, ma ha confermato che la festa avrebbe seguito il programma prestabilito per questioni gestionali e organizzative. La morte di Joelle è avvenuta poco dopo le 18, mentre giocava con due coetanei nel campo sportivo della frazione San Nicola. La porta, di quelle utilizzate per gli allenamenti, ha ceduto per cause ancora da accertare. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.